Ritorniamo a parlare di sinodo perché dopo la prima fase è una breve sosta che c'è stata all'interno dell'organizzazione, potremmo dire, della Chiesa italiana. È ripartita la seconda fase, quella dei cantieri aperti, come l'ha definita la collega Anna Maria Salvemini nel sito della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Noi questa mattina vogliamo parlare di sinodo nella Chiesa del Gargano con il referente diocesano Don Salvatore Miscio che è qui con noi. Buongiorno e bentrovato. Grazie Leonardo, buongiorno e un saluto a tutti voi cari telespettatori. Grazie come sempre per la tua disponibilità perché parlare di sinodo d'estate, ecco, magari può sembrare un po' stridente, però è una fase bella quella che si sta per aprire perché, come ha detto il cardinale presidente della conferenza episcopale italiana, c'è bisogno di mettersi in moto, ecco. E quindi la seconda fase del sinodo parte d'estate proprio per dar modo alle comunità, alle diocesi di organizzarsi e di ripartire con slancio con l'apertura delle attività dell'anno sociale a settembre. Esatto, il tempo estivo è sempre il tempo un po' della riflessione, del ripensamento, in qualche maniera anche della verifica. Per cui questo passaggio tra il primo e il secondo anno del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, perché ovviamente noi stiamo vivendo parallelamente con la chiesa universale che vive il suo sinodo, che ovviamente adesso approccia alla seconda fase che è la fase cosiddetta sapienziale, mentre noi come chiesa italiana perduriamo sull'atteggiamento dell'ascolto. Infatti i tre cantieri che vengono indicati sono soprattutto cantieri di ascolto. Ecco, parliamo allora di questi cantieri, Don Salvatore, perché Cantieri di Betania è il testo che dà, come dire, il là alle iniziative per il secondo anno del cammino sinodale. Sì, intanto le due parole, Cantieri e Betania. Cantieri perché ci fa comprendere che non c'è stata la consegna di un progetto già compilato, già pronto, da eseguire nelle diocesi. Ma viene indicato un atteggiamento, perché la parola cantiere ci indica un atteggiamento, l'atteggiamento di chissà che si mette a lavorare su qualcosa. Il cantiere ci indica anche che c'è già qualcosa sul quale bisogna lavorare per un cambiamento, per un miglioramento o per costruire ex novo qualcosa. Cantiere vuol dire che dobbiamo avere gli strumenti, come ci insegna il Vangelo stesso. Ma anche gli operai, potremmo dire. Esatto, prima di partire bisogna calcolare tutto, gli operai, il materiale, gli spazi, le regole stesse anche della costruzione. E come diceva Antoine de Saint-Exupery, quando vuoi costruire una nave, prima ancora però di procurarti materiale, fa sì che ai costruttori venga la nostalgia del mare. Ecco, allora, questi cantieri di Betania ci fanno mia nostalgia di una chiesa che si rinnova. Betania perché? Perché si muove da un'icona biblica, quella di Luca X, dove si racconta che Gesù, mentre era per strada, viene invitato ad entrare in una casa, la casa di Marta e di Maria e di Lazzaro, come sappiamo. Per cui questo entrare di Gesù nella casa, questo stare per strada dove avvengono gli incontri, questa capacità delle due sorelle di servire e di ascoltare, indicano un po' gli atteggiamenti che vengono suggeriti appunto in questi tre cantieri. Ecco, Don Salvatore, stare per strada è una formula che nella Diocesi del Gargano è stata, come dire, interpretata, posso dire alla lettera, perché attraverso le passeggiate sinodali che sono state svolte dall'Equip, ma anche dal Vescovo, Padre Franco Moscone, per le città della Diocesi, davvero si è respirata voglia di novità, potremmo dire, voglia di cambiamento, voglia di ascolto anche, perché il sinodo, d'altronde, parte anche dall'ascolto. Sì, il sinodo è soprattutto ascolto, infatti a settembre Padre Franco Moscone consegnerà a questa Diocesi, immagino come tanti Vescovi faranno con le loro Diocesi, una piccola nota pastorale che ci accompagna, che sarà proprio tutta dedicata all'ascolto, ma proprio perché è quello che il Cammino Nazionale ci sta indicando. E quella delle passeggiate sinodali a cui tu facevi riferimento è stata veramente un grande esperimento, perché abbiamo visto davvero la gioia delle persone, la sorpresa di vedere un Vescovo con altre persone della Diocesi, camminare per le strade, incontrarsi, fermarsi, quasi nella informalità, per dire che davvero la Chiesa innanzitutto accade nell'informalità, non solo nei suoi eventi già previsti, programmati, ma accade sempre, lì dove qualcuno nel nome del Signore cammina, ascolta, fa comunione, cammina insieme agli altri. Noi nel corso delle settimane precedenti, Don Salvatore, abbiamo avuto modo anche di ascoltare le tante esperienze di tante diocesi italiane, nord, centro, sud, relative davvero al sinodo. La percezione che abbiamo avuto, ascoltando i Vescovi, i referenti dioceseni, è stata davvero quella della volontà di aprirsi ancora di più della Chiesa nei confronti delle persone e delle tante categorie sociali che l'abitano, anche perché c'è una situazione sociale che è difficile, la pandemia poi ha acuito, quelli che sono ovviamente anche le tante differenze tra i territori. La Chiesa come sta reagendo da questo punto di vista, qual è la percezione dal punto di vista del sinodo? Allora sicuramente il sinodo ci sta attrezzando nella maniera migliore per accorgerci ancora di più della storia nella quale viviamo e di imparare a leggere in questa storia davvero i segni dei tempi e quindi le stesse tracce che Dio in qualche maniera ci lascia perché possiamo costruire un cammino assieme a Lui e tra di noi però a partire da quello che il Signore stesso ci dice. Quindi la sinodalità come scelta di stile, di modo, di atteggiamento, di postura di tutta la comunità ecclesiale sicuramente ci permette davvero di stare con tutti gli uomini in una compagnia che sia vera, reale e far diventare questa nostra storia che attualmente presenta delle criticità veramente importanti, forse alcune non tornavano da decenni nella nostra storia italiana, di vivercela come quel kairos, quel tempo opportuno nel quale vivere il Vangelo. Salvatore, noi viviamo in un territorio straordinario, bellissimo, Padre Pio non a caso lo definiva la cattedrale del creato e tra i cantieri indicati dalla linea guida del sinodo c'è il cantiere dell'ospitalità e della casa. Padre Franco nel messaggio rivolto ai turisti che arriveranno, che arrivano qui da noi, si è rivolto ecco davvero come un padrone di casa perché davvero la nostra cifra è l'accoglienza, vuole essere l'accoglienza. Ecco, d'estate magari uno è più portato ad essere come dire rilassato, ma ci sono anche delle iniziative per in qualche maniera incanalare le direttive del sinodo? Allora intanto il sinodo presenta una nota che è quella della ordinarietà, dunque non c'è un tempo nel quale non si possa vivere il sinodo e lo stile sinodale, anzi ogni tempo è il migliore e quelli più informali, come dicevo prima, forse sono ancora quelli più adatti, proprio perché Papa Francesco sta indicando la sinodalità come uno stile ordinario di vita, non una cosa eccezionale, per cui l'estate ancora di più si presta a tutto questo. Noi come Chiesa di Ocesana ovviamente abbiamo le comunità sempre aperte, accoglienti, soprattutto nei confronti dei turisti che vengono per il mare e per il paesaggio stupendo, come tu ricordavi. Ci sono attività che riguardano i giovani, pensiamo alla missione ai giovani, ma in tutte le comunità ci sono attività estive per i ragazzi, ci sono campi scuola, cioè ci sono tutte quelle forme che permettono ancora una volta di sperimentare come lo stare assieme è davvero la cifra della Chiesa, è lo stare assieme rivolto a tutti, è lo stare assieme però sullo stile di Gesù, che è uno stile possibile solo se ci mettiamo in ascolto di Lui. Abbiamo ancora qualche minuto Don Salvatore, voglio rubare un altro po' del tuo tempo, perché mi piacerebbe che tu un po' aprissi il tuo cuore relativamente ovviamente all'esperienza che avete già vissuto in questo anno di Cammino Sinodale. La Chiesa del Gargano è particolare perché ha la montagna, il mare, quindi potremmo dire riunisce tante anime e tanti modi di vedere anche la vita differenti. Tu come percepisci la situazione qui sul Gargano? Sicuramente quello che tu dicevi della nostra Chiesa di Cesare è molto vero, c'è la sua diversità, la sua eterogenità, proprio dovuta ai territori e alle culture, al modo di approcciare fondamentalmente la vita, il sociale, la vita insieme, la politica stessa. Quindi abbiamo sicuramente una eterogenità che è una grande ricchezza e a volte è una fatica per un cammino fatto insieme. Però al tempo stesso c'è anche una grande voglia di camminare assieme perché anche il modo di comunicare del nostro Vescovo ci aiuta molto, non è un modo diretto che affronta soprattutto questioni trasversali che riguardano un po' tutti. Per cui in questo anno abbiamo registrato cammini molto diversi, risposte molto diverse, prime reazioni alle proposte molto diverse, ma poi che magari col tempo sono cambiate, per dire che lo spirito davvero è all'opera nella nostra Chiesa sul Gargano. E quali reazioni ci sono state? Allora sicuramente ci sono state anche reazioni di resistenza e qui ti dico a cuore aperto che magari proprio noi sacerdoti, soprattutto i parroci, che magari a volte sono già oberati da impegni, da un'agenda magari molto fitta, nell'ascoltare, nel ricevere le proposte del sinodo inizialmente si sono un po' spaventati credendo che andassero ad aumentare gli impegni. Poi quando invece piano piano si è compreso bene che era una questione piuttosto di stile, cioè di continuare a fare quello che si faceva ma con uno stile diverso, magari uno stile che ci porterà col tempo a capire che i tanti impegni che saturavano le nostre agende forse non sono neanche così essenziali. Per cui a una iniziale resistenza poi si è avvicendata invece una disponibilità maggiore, una gioia nel camminare insieme. Ecco tu sei sempre stato in prima linea anche con i giovani, con i ragazzi, purtroppo il Gargano è terra di emigrazione, lo dobbiamo dire davvero in maniera molto chiara perché le opportunità lavorative e di realizzazione professionale non sono come quelle di altre zone d'Italia. Quelli che rimangono come hanno percepito questa novità dal punto di vista della Chiesa? Beh, abbiamo registrato una grande gioia, un grande entusiasmo da parte dei giovani, dei giovani che restano, che sono nelle nostre comunità, sul nostro territorio. Intanto perché si è respirato proprio un'area nuova nella quale anche la loro presenza, la loro opinione rispetto alle questioni che si andavano trattando è diventata importante come quella di tutti gli altri. Per cui questo ha creato un entusiasmo maggiore e dobbiamo dire che soprattutto loro nelle passeggiate sinodali sono stati quelli che hanno registrato un maggiore entusiasmo. Diversa invece la situazione dei giovani, gli adolescenti, che magari per tanti motivi sono ancora qui presenti sul territorio, si sono visti coinvolti in un questionario che in qualche maniera ha registrato con molta schiettezza la loro distanza da quelle che sono le questioni istituzionali, quelle domande istituzionali. Ma hanno messo fuori invece un grande bisogno di empatia, un grande bisogno di vicinanza, un grande bisogno di una compagnia che forse è davvero l'arte nella quale come Chiesa dobbiamo crescere anche e soprattutto verso i giovani, gli adolescenti. E non a caso il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale, il quarto cantiere che è lo stile della sintesi, può aiutare da questo punto di vista. Allora Don Salvatore buon lavoro a questo punto perché penso ce ne sia davvero bisogno e quindi ovviamente il nostro supporto anche qualora ce ne dovesse essere bisogno per quanto riguarda tutte le istanze che il Sinodo ci propone. Grazie per essere stato con noi e buona estate, ci rivedremo penso molto presto. Grazie Leonardo e grazie a Padre Pio TV che davvero ci sostiene sempre con un aiuto preziosissimo e una buona estate a tutti. Grazie, grazie Don Salvatore, restituiamo allora la linea alla regia.